Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Roma, code e attratti tra il bivio con la variante di Vallico La Quercia e Firenzuola, e per traffico congestionato 3 km di coda tra Firenzuola e Aglio, 7 km di coda tra Ronco, Bilaccio e Calenzano, Sesto Fiorentino, e 3 km di coda tra Monte San Savino e Chiusi, sempre verso Roma, incidente al km 383 tra Monte San Savino e Valdichiana, in direzione Bologna, per lavori, corsie di destra chiuse tra Firenze e Impruneta e Firenze Scandici, per questi lavori è chiuso lo svincolo di Firenze e Impruneta in uscita, provenendo da Roma in entrata verso Bologna, e ci sono 2 km di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta, sempre verso Bologna, code e attratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Vallico Baccheraia, in Fipilè, 2 km di coda per un incendio al km 55, tra l'allacciamento per Pisa e Ponte d'Eraest in direzione Firenze, sempre verso Firenze per lavori, rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna, ed è tutto, buon viaggio!